Se ti piace la frutta Adesso ragazzi andremo ad occuparci della cassaforte Allora, penso che la cosa più difficile intanto, paradossalmente, sia trovare la cassaforte Che dovrebbe stare sulla sinistra se non vado errato Più o meno esattamente qua in fondo Allora Qua c'è un codice binario da prendere E ovviamente noi non possiamo saperlo Abbiamo questo foglietto Che è questo qua E Dobbiamo mostrarlo a qualcuno Allora, dobbiamo andare a casa di Elliot Che è Da queste parti Molte volte ragazzi la cosa difficile È trovare i posti Perché alla fine la mappa Non è neanche così grande Ma è molto Sale e scendi Spesso ripetitiva E quindi È facilissimo perdersi Comunque c'era una porta rossa A cui bisognava bussare Ma adesso la troviamo Non vi preoccupate Eccola qui Stavo per dire State a vedere Tipo passano 354 anni E la sto ancora cercando Comunque questa è casa di Elliot Dovrebbero aprirci E bisogna andare su Ci presentiamo ad Elliot Ok C'è scritto Duferbar Quindi bisogna andare Al bar A completare questa missione Praticamente il codice binario Diceva solo Duferbar Vuol dire che il codice Sta esattamente In quel posto Il bar Non è difficile Da raggiungere Anche perché Basta Praticamente Ragazzi Tornare Al Guardiano Guardarsi indietro Esattamente Questo è il guardiano Ci si guarda indietro Ed ecco il Duferbar Il codice Sta esattamente qua sopra Basta rimuovere il quadro 1283 Anche facile da ricordare Quindi tu torni dal guardiano Sali sopra Sali giù Sali giù è bellissimo Torni alla cassaforte E digiti 1283 E ti prendi il contenuto E tu qua Hai ottenuto Uno spartito Musicale Che sono 8 E quindi adesso Bisogna andare a cercare Gli altri 7 Gli altri 7 Gli altri 3